La risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo, del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Io offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Come hai voluto accettare i doni di Abel e il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro Padre, nella fede e l'oblazione pura e santa, come il fise che tuo sono sacerdote.